Spesso e volentieri input il fatto di essere spedito nella stalla accanto all'etame di cavallo dalla ragazza che ti piace su cose che effettivamente non c'entrano niente da quello che pensavi tu Magari perché ti basi su ciò che lei ti dice Ma hey man, lei ti dirà per la maggior parte delle volte motivazioni totalmente alterate Lei ti dice no ma non sei tu No ma che non è periodo No ma mi conosco, non funzionerà Ma la verità è una Sei pesante come un piccolo peso da due chili attaccato tramite piercing allo scroto Nelle coaching, nel playlover VIP club Nei corsi master Ho riscontrato quindi sia dal vivo che in chat una pesantezza devastante da parte di almeno tre uomini su cinque Quindi vediamo sette comportamenti che ti fanno apparire pesante Uno, i muri di testo Spesso non ve ne accorgete neanche Ma quando vado a leggere e correggere chat a studenti La prima cosa che cerco e a cui faccio caso è la lunghezza dei messaggi Risulti pesante quando inondi la chat di verde Verde saresti tu E c'è poco bianco Il bianco è lei Risulti come una persona che non ha intelligenza sociale Idem dal vivo Come se lei annuisse e tu la bombardassi di roba Cioè che immagine si fa di te Due lei non risponde e tu ricompari dopo un'ora E poi ancora, ancora, ancora In playlover VIP club, il primo giorno di corso Io ho inserito un audio dal titolo I quattro elementi del successo In questo ambito Sono regole da tatuarsi in fronte Una di queste regole diceva Devi rispettare la tua persona Se una ragazza visualizza il mio messaggio E non risponde Io posso anche riscrivere dopo un'ora Ma sei sicuro che in qualche modo faccio notare Anche in maniera velata Che aspettavo una risposta E che non sono soprattutto abituato a inseguire Se tu sei costantemente in proiezione E il giorno dopo ancora e ancora e ancora Risulti davvero pesante Dovresti invece domandarti Perché la ragazza si comporta così com'è? Perché scappa? Non è scrivendole ogni due ore Che lei riacquisisce interesse Tre, fai il calendario Non mi verrebbe altro titolo per spiegare questo concetto Cioè lei sa che tu arrivata ad una certa Ora O giorno O momento della giornata Comparirai Con una bella dissenteria matutina È inquietante, no? Toglia il brio e l'interesse Come il buongiorno spedito ogni fottuta mattina Quattro Tutto quello che le dice e leggi È fighissimo, è bellissimo Risulti pesante È pesante Anche se la ragazza li apprezza Non finirà mai con i lecchini lei I lecchini leccano E le fanno bene all'ego Devi smettere di eleggere Tutto quello che esce dalla sua bocca Come verità assoluta E far ruotare tutto il tuo mondo La tua personalità Attorno ai suoi concetti E quello che lei dice Fa schifo sta roba È cacca secca 5. Continue richieste Risultare pesante Anche circa le costante e continue pressioni Sul fatto di vedersi Di chiamarsi Di bere il caffè Di fare videochiamate Di farti mandare audio Di farti mandare le foto Devi dare tempo al tempo Devi imparare a gestire le tempistiche E capire quando sei fuori luogo E quando invece la ragazza ti sta dando retta Ma per davvero? E quindi ha piacere a fare determinate azioni E risulti una persona Veramente viscida Bisognosa e marcia Sei, metti tantissimo emotico Nelle frasi che utilizzi So che sembra assurdo Ma rende veramente L'aria irrespirabile Te lo giuro E fa tanto Cioè buongiornissimo Caffè È come se è una battuta Che lei fa Ti fa ridere Sì ma non da spaccarsi Dalle risate Tu dal vivo fai Tu dal vivo fai Fantastico Che roba è Tu dal vivo ride scorciagola Crea imbarazzo No? Qui sì che è cringe Gringe Cringe Gringe Vini Cringe Ti fa apparire come una persona Priva di intelligenza sociale Pesante Che pende dalle sue labbra Sette Fare audio Di risposta lunghissimi Magari lei per fare prima Ogni tanto Una o due volte Ti invia dei messaggi audio Lunghi 10 15 20 secondi Non puoi Cazzo rispondere Con un audio Di 4 minuti Cioè è la morte Non puoi Cazzo Devi calibrare Ciò che trasmetti In base a ciò che ricevi È possibile Che non lo capisci Alla ragazza Arriva un messaggio audio Di risposta Di 4 minuti E fidati Non dice Che figata Un audio tutto per me D'ascoltare Dice Ma che cazzo ha fatto sto qua Ha letto un capitolo Della Divina Commedia Dai su